Sono stati gentilmente offerti dal pro-shop del circolo dei golpi bruncali. Ci sarà un premio speciale che è offerto dal gol di Livorno per i componenti, perché oggi abbiamo avuto un buon numero di componenti del gol di Livorno. Sono venuti qui a fare la nostra casa. Veniano il signor Giovanni Ghezzani, che è il direttore del golf club di Livorno, e il dottor Fernando Damiani, presidente del golf club puntale. No, io non dico niente. Ormai diventa una buona tradizione, perché anche l'anno scorso eravamo qui. Sono contento che vi sei un po' tranquillizzato, perché abbiamo paura dei risultati. L'anno scorso, effettivamente l'anno scorso, ci abbiamo messo una media di sei ore al team per finire. Quest'anno abbiamo fatto la nostra figura, siamo arrivati in fondo, sicché è tutto. Io ringrazio... Abbiamo guadagnato quasi due ore, quindi siamo stati più che veloci. Io ringrazio il portocito, soprattutto il presidente, per le particolari condizioni, l'agevolazione che ci ha fatto e ci ha permesso di venire. Poi vi dirò che ci sono anche dei pacchetti, che questi saranno per tutto l'anno, a condizioni particolarmente in giro. Per il resto, grazie alla secretaria, che ormai con l'esperienza che ha, non si può dire di niente. Dico che, oltre a questo premio, tutti i premiati della gara di oggi hanno un green fee gratuito al Corso di Livorno. Quando vogliono, possono venire, dicono che hanno vinto la gara dell'ultimo dell'anno e noi ce lo ricordiamo. Per cui, chi vuole può venire tanto. Bene, bravo. Buonasera a tutti. Sì, avevamo telefonato pochi minuti fa al presidente, ad Andrea Scafuzzi, perché lo volevo collegare in diretta, ma non ha potuto rispondere. Probabilmente oggi avrebbe impiegato un nido perché mancava Andrea, glielo dirò, glielo dirò. Di sicuro. Comunque, con Andrea siamo amici e amici da tanti anni. Andrea Scafuzzi è il presidente, lo dico per chi non lo conosce, per chi non è di Livorno, è il presidente del Comitato Toscano, ormai ha il terzo mandato, e con il quale abbiamo lavorato per due mandati insieme, è stata una conoscenza che mi ha reso molto contento e con Andrea si è stabilito un ottimo rapporto. Il fatto di fare l'ostatece di gemellaggio tra Puntale e Livorno è una cosa che abbiamo già pensato anche l'anno passato con Andrea e credo che con il campo di Livorno sta sempre più crescendo, anche con la qualità di campo e con i giocatori, sia una cosa che si possa concretizzare già in questi inverni, a partire già dalle prossime settimane. Quindi un ringraziamento particolare. E di Pisani sarà un problema. Il tuo signore non lo ha fatto. Io sono qui, però sono lì, sono il suo discorso. Oggi c'è il nostro socio storico. Quattro. Comunque, questo io vi ringrazio di nuovo per la vostra presenza e spero che continuate a venire nel nostro campo. Siamo all'ultima gara della stagione, è un'annata che ha visto da parte nostra un impegno per fare tanti cambiamenti che continueranno nel prossimo anno e si spera che i frutti, come tutte le cose che vengono fatte, vengano poi contenuti. Come quando si fa un restauro di una casa, i primi mesi magari danno qualche problema in più per poi avere vantaggi migliori e più soddisfacenti quando le cose arrivano. Noi speriamo che con l'estate prossima di completare i lavori che abbiamo organizzato e abbiamo scalavitato di fare in quest'annata e quindi vi potete offrire un campo sempre migliore. Puntala, anche in una giornata bruttina come oggi, l'ufficio ha riservato un angolino, io ero a Follonia per tutti gli impegni di stamattina, pioveva tutta la mattina, era freddo e vedevo a puntala, invece in quasi usciva un po' di sole. Ecco, questo è il pregio di puntata. Non mi voglio dilungare, vi ringrazio tutti, faccio a tutti voi e a tutte le vostre famiglie i migliori auguri di fine anno e di buon 2018 all'insegna della salute del benese ma anche all'insegna del golf. E quindi l'appuntamento per tutti è al 2 gennaio e noi prendiamo 2, 4, 6 e 7 con ancora 4 gare durante queste festività. Di nuovo auguri a tutti e grazie e felicità. Allora, iniziamo con i premi speciali nella categoria Signores, il primo è Fabio Gattaniello, 35 punti. Bravo! Metti la foto. Ok, grazie, perfetto. Premio per la categoria Signore, prima Gabriella Micheli, seconda, 29 punti. Brava, brava Signore. La, perfetto. Nella seconda categoria Handicap da 21 a 36, secondo Nitto, Massimo Marzucchi con 36 punti. Bravo Massimo. Grazie. Vai. Primo netto di seconda categoria Galeno Neri con 36 punti. Galeno Neri con 36 punti. Grazie. Ok, perfetto, vai. Nella prima categoria Handicap fino a 30, secondo Nitto, Mario Camarda con 35 punti. Bravo Mario. Ok. Ok, fatta. Primo netto di prima categoria, mi sanno che stiamo facendo. Mi sanno che stiamo facendo. Bravo Benizio. Perfetto, fatta. Grazie. Grazie. E' il primo nel lodo, Giovanni Ghezzani con 19 punti. Eeeh, bravo Giovanni. Ok. E' il premio speciale per i soci del Golf Club, il primo netto assoluto, Sandro Lunardi. Grazie. Bravo. Bravo. Sì. Bravo. Sì. Bravo. Bravo. Bravo.